E' stato inaugurato ufficialmente sabato scorso nei locali del gruppo SVA in via Trieste a Ravenna il salone di Das Welt Auto dedicato al mondo dell'auto usata. Nuovo marchio della casa Volkswagen che si prefigge norme di qualità, sicurezza di usato garantito e tranquillità in un rapporto chiaro e trasparente con i propri clienti. Dopo una gestazione di 12 mesi siamo riusciti a ampliare questo showroom che le abbiamo dato una connotazione con questo nuovo marchio Das Welt Auto che fa parte del brand Volkswagen e permette in maniera ufficiale di certificare tutte le vetture aziendali e usate del gruppo Volkswagen quindi Audi, Seat e Skoda oltre ovviamente a Volkswagen con 110 controlli, 24 mesi di garanzia e soprattutto il soddisfatto e rimborsato ovvero se il cliente a distanza della settimana non si trova bene con l'auto può tranquillamente restituirla. e per un'automobile è un po' la novità ecco. Questo marchio poi ci permetterà di ampliare il discorso anche a tutti gli altri brand automobilistici quindi possiamo spaziare da Renault a Kia, Mercedes, Hyundai insomma a tutti i marchi che ad oggi l'automobile costruisce. Una bella novità quindi per il gruppo SVA. Sì è una bellissima novità, la gente ha risposto bene e speriamo che sia l'inizio di un successo. Il mercato dell'usato è un mercato diciamo in crescita. Il mercato dell'usato è un mercato molto florido e noi addetti al settore siamo un po' in crisi nel senso che ormai gli usati, i clienti con il web tendono a venderseli tra di loro. Quindi noi siamo portati a acquistare le vetture fuori come ad esempio da Sveltauto che ci procura le vetture proprio direttamente dall'azienda che sono ex vetture di dipendenti o noleggi. Quindi l'usato è un mercato molto florido e noi ci siamo attrezzati in questa maniera. Senta, la differenza la fanno proprio le garanzie che può dare una realtà come la vostra rispetto ad un usato? Sì ovviamente le vendite tra privati non hanno garanzia, la cosa che differenza andare da un professionista del settore è proprio la tranquillità nell'acquisto e la serietà dopo tanti anni che siamo su questo settore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.